Per prima cosa per ballare tre pistetti come se si stesse per morire nell'estate del 66. Fuori dai vetri un'Italia che rideva come per caso c'era Gloria che guardava, sì, guardava verso me, magari mi voleva. Nell'estate del 66. Tutti d'accordo, noi ragazzi del cortile, alle tre del pomeriggio, su da me. L'unico neo, la presenza femminile, per una che veniva quattro davano forfè. Così la festa se ne andava senza storia e qualcun altro se ne andava con la Gloria. E io rimanevo lì, vicino al giradischi, nelle sate del 66. Poi alle sette il ritorno della mamma. Presto le luci, sento qui, succede un dramma. Bene, ci vediamo ciao, non mi dimenticare. Infatti mi ricordo ancora come sei, anche in questa notte dell'86. tanto ora se ne andava con il nostro film. Assolutamente è una stessa huidanted più fredda. Grazie a tutti.